Stasera prepareremo una hot pot. Kelly, vuoi spiegare che cos'è? È uno stufato molto popolare a Sichuan, nel sud della Cina. È un piatto in condivisione. Si cucinano carne e verdure. Cucinate e divertitevi. Non sono cuoca, ma posso farcela, ok? No, ce la fai. Questa è facile. Non lo conoscevi? No. Sei asiatica e non l'hai mai cucinata? Non è giusto. Non sono cresciuta con mio padre. È lui che è mezzo giapponese. Io lo sono al 25%. Sei comunque asiatica? Neanch'io, ma lo faccio ancora. Per questo devo uscire di più. Non conosco queste cose. In realtà lo incontro la settimana prossima. Chi incontri la prossima settimana? Vedrò il mio padre biologico per la prima volta. Martedì. Quindi... La prima domanda che gli farai? Che fini avevi fatto? Crishelle, parlami di Dancing with the Stars. Sì, è vero, hai ragione. Non abbiamo avuto occasione di parlare. Ne vuoi un po'? Sei stata formidabile. Te la cavi molto meglio di me a ballare. Bravissima. So good. So good. So good.